Grazie, sono io, sono contento e onorato dell'amico Armando che mi invita sempre, come di Velania, che è la collaboratrice di Vite Pensiero, che organizza sempre queste cose, sono molto contento. Ma sono poi particolarmente contento, lo dico subito, direttamente, perché il tema del desiderio è un tema fondamentale dal punto di vista antropologico, a mio avviso, non lo dico più, ma è chiaro che a mio avviso, è uno dei temi centrali, io penso che se dovessimo dare, io a volte a lezione lo faccio, una definizione minima di uomo, potremmo dire abbastanza correttamente, che l'uomo è quel vivente dotato di ragione e desiderio, quindi ogni riflessione che voglia essere seria, che non voglia ridursi al bar, che non voglia ridursi a quello che sta succedendo, forse inevitabilmente, che ognuno dice la sua, io continuo a insistere nel dire che c'è una differenza tra l'avere un parere e avere un pensiero, avere un parere, ognuno di noi ha pareri su tutto, il problema è avere un pensiero, non un parere, o meglio, il problema è non spacciare un parere per un pensiero, e il pensiero che cos'è? Il pensiero implica letture, confronti con gli altri, noi non siamo i primi, dico sempre, se vuole fare la tesi su Paperino, e io dico sempre, benissimo, fai la ricerca bibliografica e su Paperino tu trovi 5.000 pubblicazioni, figuriamoci su teme come il desiderio, il dolore, il piacere, la morte, e sono però le idee che circolano dappertutto, tu senti, adesso c'è il calcio, intervistano i calciatori, mica parlano di calcio, parlano dell'umiltà, della forza, della determinazione, avete sentito? Adesso non voglio toccare un punto d'oles, ma ho detto un sassolino, me lo voglio togliere, meglio, come diceva Nietzsche, che cito sempre, meglio piccole vendette che niente. E' morto Boniperti, Boniperti, è una bla bla bla, e Boniperti è stata ripetuta, l'avete sentito cosa dice Boniperti? La frase, no? Quando diceva vincere non è una cosa importante, è l'unica cosa che vale, bello, no? Bello! E tu lo continui a dire ai ragazzi che invece lo sport è competizione, cerchi di educare i ragazzi al fatto che la cosa appunto che non è importante è vincere, e invece si lanciano le frasi, l'unica cosa che vale è vincere, pensate che bel messaggio, che bel messaggio. E verrebbe a dire ma chi lo dice, a partire da che cosa tu dici quella cosa? Allora, ed è così, su tutte le cose, soprattutto appunto sulle cose di uno certo spessore. Ora il tema del desiderio è, ripeto insieme alla ragione, un tema densissimo. Il desiderio non è la voglia, il desiderio non è il bisogno. E vabbè, vediamo, io poi oggi pomeriggio nel libro che è stato citato, appunto la bontà di Armando ha citato il libro, il desiderio è proprio su questo tema. Perché è chiaro che tu al bar, al bar cosa dici? Cosa desidero? Beh, desidero una nuova macchina, desidero un posto di lavoro più vicino casa, desidero adesso, io desidero tantissimo andare al mare. Eh, ma queste sono desideri, cioè sì, sì, no. E appena, io dico, appena esci dal bar e appena inizi a riflettere sulle cose, ti rendi conto che è difficilissimo, che è complicato, che ogni cosa c'è sempre un altro aspetto e poi un altro e tu, boh, che ci sono stati dei giganti che hanno parlato sul desiderio, sulla morte, sul dolore, sul piacere, e tu, dici, accidenti, non ci avevo pensato. Inoltre, il tema di oggi, di stamattina, è su un punto delicatissimo, che è il tema dell'invidia. E io penso, cercherò di mostrarlo, che l'invidia sia un fatto strutturale del rapporto con l'altro, voi sapete che questa storia del rapporto con l'altro è diventata anche una moda. Ogni tanto ci sono le mode. Adesso c'è la moda della cura, bisogna prendersi cura dell'altro, tutte cose vere, per l'amor del cielo, eh. Bisogna prendersi cura dell'altro, bisogna voler bene all'altro, bisogna aprirsi all'altro. E tutti dicono, beh, certo, certo. E poi, appena esci dal bar, tu ti accorgi che questo rapporto con l'altro è pazzesco, è difficile, e non perché siamo cattivi. Perché, capite, sarebbe facile risolvere il fatto che io odio l'altro perché sono un mascalzone. È facile, detto così, e ma non è così. Quando Sartre dice che gli altri sono l'inferno, non è un cattivone. Svolge un ragionamento. E io penso che il problema dell'invidia, dirò adesso, eh, come va intesa, secondo me, è un fatto strutturale. A tal punto che io pongo la questione se si possa vivere senza invidiare. non come spesso si dice che si dice che all'inizio c'è l'amore, poi talvolta alcuni odiano o invidiano. Io penso all'opposto. Che il rapporto naturale, normale, più immediato sia quello del dominio, dell'invidia, e l'invidia è sempre distruttiva. Il problema è di vedere a quali condizioni è possibile non invidiare. E cosa vuol dire non invidiare? È chiaro che penso che siamo tutti d'accordo qui dentro, ma anche fuori, nel dire che l'invidia non è un bel sentimento e che bisognerebbe evitare di invidiare. Beh, certo, al bar si dice così. E poi tu ti accorgi che non solo nella tua vita, ma ti accorgi anche rispetto a te che c'è uno sguardo invidioso. Allora, bisogna capire questo. Per capire l'invidia bisogna capire due cose. Il tema del desiderio, solo un essere desiderante può invidiare. E il secondo elemento che bisogna cercare di capire è il tema della visione, del vedere. Invidia vuol dire vedere di traverso. Ma perché si vede di traverso? Questo è il punto. Cosa c'è di interessante nel guardare di traverso? E perché guardi di traverso? queste sono le domande che di solito al bar non ci si pone. Io penso, beh, in un festival come questo, ma anche in una riflessione personale, invece è bene porse le questioni per poi accorgersi che alcune cose sono talmente profonde che vanno a toccare dei punti che sono pazzeschi. E tu non è che superi con la buona volontà. Allora, e ora entro in merito alla questione. A mio avviso, per tentare di capire questo sentimento tragico dell'invidia, bisogna accogliere l'invidia all'interno di un legame con altri due sentimenti che spesso vengono usati come sinonimi. Perché per esempio c'è un'idea che dice che l'invidia non è sempre cattiva e negativa perché tu invidiando l'altro poi ti metti anche tu a fare quello che ha fatto l'altro. Ma qui si confonde questa cosa, la si confonde con l'emulazione. cos'è l'emulazione? L'emulazione è il fatto che io vedo nell'altro vedo nell'altro un bene attenzione io spero di essere preciso e se no cosa facciamo a fare queste cose. L'emulazione è che io vedo nell'altro un bene che mi provoca un certo dispiacere perché lo vedo nell'altro ma lo specifico dell'emulazione è che nel vederlo nell'altro questo mi spinge a farlo anch'io a possederlo anch'io attenzione l'emulazione vedo un bene nell'altro un po' mi dispiace perché è nell'altro ma il fatto che è nell'altro mi spinge a farlo in questo senso l'emulazione è positiva a proposito dello sport altro che quello che dice Boniperti che bisognerebbe proibire una frase come quella che dice Boniperti l'emulazione a livello dello sport è importantissimo tutti coloro che insegnano a dei bambini lo sanno perché tu dici vedi come fa lui fallo anche tu vedi come salta lui quando quel genio di Fosbury inventa il salto in alto all'incontrario un genio tutti saltavano diretto no? e lui dice no è dietro bellissimo uno dice porca miseria guarda quello lì non so se vi ricordate a proposito di sport non so perché mi è venuta in mente sta roba dello sport vabbè Schollander il nuotatore americano che nuotava e cosa inventa inventa l'idea che invece di toccare con la mano e poi spingere con i piedi fa la capovolta vi rendete conto? e da quel momento lo fanno tutti se voi vedete i campionati di nuoto tutti nuotano arrivano girano e risparmiano tempo geniale Fosbury geniale non pre-affrontarlo direttamente ma di schiena di schiena di schiena e lo faccio anch'io l'emulazione vedo nell'altro un bene mi dispiace porca miseria non ci ho pensato lo faccio anch'io io l'esempio che faccio a proposito è la torta vado da un amico o da un'amica fa la torta di mele buonissima e dico cavolo buona come l'hai fatta? così e come si fa? fai così guarda vado a casa la faccio anch'io chiaro? questo primo punto quindi l'emulazione è legata al fatto del potere ancora fare vedo nell'altro un bene che posso ancora fare che posso ancora possedere che posso ancora realizzare la torta pensate alle tecniche pittoriche a un certo momento uno gli viene e dice cavolo lo faccio anch'io l'altro sentimento che in genere si confonde con l'invidia è la gelosia ma qui la gelosia che cos'è? è che io vedo qualcun altro quindi ritorno al tema dell'altro vedo che qualcun altro si interessa di un bene che è mio o che io immagino essere mio quel bene è mio realmente e io vedo che un altro l'esempio classico vedo uno che corteggia mia moglie ora non è che mia moglie è mia come un oggetto però certamente mi dà fastidio è mia moglie la gelosia è un rapporto con l'altro in cui vedo nell'altro mentre nell'emulazione il bene non è mio ma lo posso ancora avere nella gelosia il bene è mio e vedo qualcuno che lo insidia e quindi mi arrabbio mi rattristo vedo cosa fare la gelosia è peggio dell'emulazione evidentemente perché l'emulazione è uno slancio a fare fado a casa e faccio la torta l'invidia la gelosia non è che posso fare è mia moglie è mia moglie sono un po' preoccupato quello lì continua a corteggiarla ma la gelosia non è tragica la gelosia è una roba pesante dura difficile da superare che sarebbe bene superare ma non è facile superare ma non è tragica l'invidia è tragica e adesso dico perché la definizione di invidia è la tristezza che provo nel vedere un bene dell'altro che avrebbe potuto essere anche il mio ma che non sarà mai più il mio attenzione vedo nell'altro un bene è la tristezza che provo nel vedere nell'altro un bene che avrebbe potuto essere anche il mio questo è interessantissimo ma che non sarà mai più il mio qui c'è l'elemento tragico è un'esperienza anticipata di morte è qualcosa che è finita e adesso chiarisco bene perché se no se no non si capisce niente ce ne sono si possono fare tantissimi esempi io siamo il mio amico abbiamo studiato pianoforte da ragazzi insieme eravamo tutti e due abbastanza bravi però io dopo ho smesso perché ho preferito andare in discoteca ho preferito altre cose e il mio amico invece ha continuato a studiare lo rivedo dopo vent'anni e mi accorgo che lui è diventato un musicista importante faccio esperienza di un bene che avrebbe potuto essere in qualche modo anche il mio perché anch'io ero dotato come il mio amico anch'io potevo fare una certa carriera ma poi ho rinunciato e a un certo momento vedo che l'altro ha realizzato attenzione quello che avrebbe che avrei anch'io potuto realizzare l'invidia non ha a che fare col possesso ma con il possibile avrei potuto questo verbo è fondamentale questo condizionale anteriore è meraviglioso adesso vi faccio degli esempi avrei potuto ora perché è interessante questa questione perché come tutti gli studiosi di questo fenomeno di questo sentimento dicono dicono che l'invidia nasce dalla prossimità la prossimità cosa vuol dire che io per esempio io Silvano Petrosino non invidio Bolt quello che fa i cento metri in nove secondi mi seguite non mi è prossimo non mi interessa niente non è stata ormai la mia voglia allo sport all'attività sportiva quindi non lo invidio non invidio il re perché è fuori dall'idea non c'è nessun pensiero che mi fa paragonare a a a Carlo d'Inghilterra le vite sono diverse io sono nato qui lui è nato lì non lo invidio cosa invidio ciò che avrei potuto essere ciò che avrei potuto essere e che non sono e che non sarò mai più perché che non sono è presente anche nell'emulazione non ci avevo pensato a fare la torta di mela in quel modo soltanto che nell'emulazione posso ancora nell'invidia è il non potere più l'esempio nella storia della diciamo della letteratura della nostra storia culturale che dice bene questo che lo dice bene anche se bisogna leggere saper leggere è Biancaneve noi in Biancaneve troviamo una cosa enorme è enorme e adesso c'è la moda sapete che c'è la moda che dicono che le fiabe bisogna addolcirle perché i bambini si restano scandalizzati il delirio io dico sempre perché la devi riscrivere la fiabe scrivile tu se hai una voglia perché la devi cambiare alcuni cambiano che il lupo non mangia capucetto rosso è capucetto rosso che dà delle bastonate al lupo perché il lupo è maschio invece noi adesso dobbiamo valorizzare le donne una mamma ha detto che un'interpretazione che davo di capucetto rosso è maschilista perché capucetto rosso è salvata dal cacciatore e dice ma non si può salvare da sola capucetto rosso la storia è quella che capucetto rosso non si salva da solo quello è il punto scrivene tu una dove capucetto rosso si salva da sola e dopo sei mesi sarà dimenticata mentre noi continuiamo a leggere capucetto rosso e biancaneve cosa c'è di enormi biancaneve enormi biancaneve c'è il rapporto il rapporto tra due donne tra due donne prossime come in tutte le fiabe ci sono tantissime versioni in alcune versioni il rapporto tra le due donne alcune versioni dicono che sono le sorelle che odiano biancaneve in altre versioni si arriva addirittura a dire che è la madre che odia biancaneve nella versione dei fratelli Grimm che a mio avviso è quella più pregnante è la matrigna datemi due minuti sono velocissimo ma qui c'è una orgia qui dobbiamo fare una roba sulle fiabe c'è una orcia una meraviglia di pensieri di riflessioni come inizia la storia inizia la storia che c'è la regina che sta cucendo interessantissimo adesso non dico cosa vuol dire sto cucire e si punge il tema del rosso il tema del sangue e dice ma guarda vorrei una bambina con la pelle rossa le guance con i capelli neri come l'ebano siccome nevica con la pelle bianca con le labbra rosse e la pelle bianca e la regina resta incinta e ha questa bambina e cosa succede? muore la regina classico perfetto perfetto c'è la matrigna a sette anni dice la storia a sette anni questo sette ritorna nella fiaba ma è importante cos'è questo sette sette anni beh su questo non c'è discussione spero che nessuno venga fuori a dire non è vero sette anni è la questione dello sviluppo della bambina quel rosso lì che c'è nel cappuccetto di cappuccetto rosso è il sangue è la morte è la passione è il ciclo mestruale a sette anni la regina pone la domanda allo specchio che dice sempre la verità grandiosa vicenda specchio specchio chi è la più bella del reame lo specchio risponde così regina qui nel reame tu sei la più bella ma al di là del reame biancaneve lo è molto di più se andate a leggere la storia vi accorgete che i fratelli Grimm dicono delle cose pazzesche che la regina divenne livida un odio incontenibile e cosa dice la regina chiama il cacciatore e dice uccidila non la voglio vedere toglila di mezzo perché la mia domanda è cos'è che ha visto la regina di così terrificante di arrivare a dire uccidila la gelosia perché era più bella ma non regge e non regge soprattutto per le cose che verranno dopo che la fiaba dice uccidila dice al cacciatore e poi cosa dice e portami il cuore e i polmoni a prova che tu l'hai uccisa vedremo che questa è una menzogna aspettiamo un po' cos'è che ha visto allora la mia interpretazione è questa ma dico la mia per fare in fretta la matrigna ha visto una cosa che lei ha sempre saputo per questo è interessante lo specchio non è un altro che gliela dice lei l'ha sempre saputa ed è una cosa che noi tutti sappiamo ma che soltanto l'emergere di Biancaneve gliela fa ricordare se non avesse visto Biancaneve poteva vivere nell'illusione di farti il lifting di farti com'è che dite voi il boy toy cioè no l'amante giovane no te la puoi raccontare che sei giovane che porti come dice la la pubblicità non so di quali assorbenti che dice no perché a me piacciono le minigonne no te la puoi raccontare e noi tutti ce la raccontiamo ma la visione di Biancaneve cioè di che cosa di una donna che inizia ha il suo ciclo il suo percorso di fertilità e la matrigna fa questa esperienza si accorge che lei che non ha avuto figli non le avrà mai più non so se è chiaro eh il ciclo della matrigna è finito ed è finito irrimediabilmente non è l'emulazione non ci posso fare niente ma certo che me la racconto oggi poi no posso avere figli a 60 anni 65 ma per l'amor del cielo poi si può fare di tutto ma è interessante è questo che è insopportabile perché se fosse un problema di bellezza per quello lo specchio dice nel tuo regno nel tuo reame tra i tuoi amici tu te la puoi raccontare non scherzo quando dicono hai l'amante giovane fai una vita giovanile perché certo la vecchiaia non è legata all'età te la puoi raccontare certo essere ma al di là del reame la realtà non ciò che tu controlli e domini ciò che tu non domini è finita e infatti la regina dice portami il cuore e i polmoni a prova che tu l'hai uccisa il cacciatore non la uccide uccide il cinghialetto e porta i cuori e i polmoni e cosa fa la matrigna? se li mangia li fa cucinare e se li mangia e io penso che questa sia una conferma di quello che si chiama il cannibalismo rituale tra gli uomini il cannibalismo è stato praticato ma non è mai praticato per mangiare è il cannibalismo rituale cioè tu mangi il cuore o i testicoli il cuore dell'avversario per interiorizzare la sua forza mangi il cuore del bufalo gli indiani lo fanno ancora oggi appena uccidono il bufalo subito aprono alcuni cioè tradizione e mangi un pezzo di cuore per interiorizzare la forza del bufalo la matrigna gioca all'ultima carta per interiorizzare la fertilità ciò che mai ha perso c'è un personaggio molto interessante nella nostra storia letteraria quindi l'invidia è legata a che cosa? al non potere più è un'esperienza di non potere più è l'emerge non potere più perché tu non ti puoi mettere su a studiare adesso pianoforte non ce la farei mai più o a fare la ballerina se volevi fare la ballerina o a fare l'atleta perché ormai gli anni sono passati non puoi più Mazzarò che non puoi portare la roba e vi ricordate come finisce Mazzarò Mazzarò Verga è un gigante è un gigante cosa fa scattare a Mazzarò la rabbia che cosa? quando passò davanti dice Verga un giovane in nudo un suo servo un ragazzino e Mazzarò cosa dice? guarda chi ha davanti a sé tutta la vita chi non ha niente e come finisce Mazzarò? prese un bastone e iniziò ad uccidere le galline i tacchini bellissima questione non sopporto questa evidenza e quindi cerco di distruggerla di tirarmela fuori davanti agli occhi l'invidia è sempre distruttiva e adesso vi faccio un esempio sempre distruttiva non c'è un'invidia buona quella semmai è l'emulazione e tutti noi non solo le donne chiaramente nella fiaba gioca alla carta della matrigna per fare più in fretta ma tutti noi a un certo momento faremo l'esperienza di non potere più non potere più alzarci non potere più cambiarci da soli è l'esperienza anticipata il problema è cosa fare di fronte a questa evidenza la matrigna cosa avrebbe potuto fare avrebbe potuto diventare madre di colei che non è sua figlia cosa difficilissima in Filomena Marturano questa roba è detta no? Domenico Soriano è chiamato a diventare padre di quelli che non sono sui suoi figli e oggi è di moda l'adozione come se fosse un giochetto che uno si alza al mattino schiaccia un pulsante l'adozione è difficile in Domenico Soriano c'è stato un percorso lunghissimo questa figura stratosferica questo personaggio di Filomena che lo ha portato a questa verità di diventare padre di quelli che non sono i suoi figli sono tutti e tre i tuoi figli non solo quello che tu hai generato la matrigna avrebbe potuto chiaramente la fiaba non percorre questa strada nella nostra tradizione letteraria c'è una figura di donna stratosferica è Gertrude bisognerebbe continuare a leggerli quei capitoli Gertrude ha alle sue spalle chi? il padre castratore interessante ha un padre che non è padre ha un padre che difenda il patrimonio ed è per questo che giustamente per difendere il patrimonio le parole hanno un senso patrimonio questo non padre ma attento al patrimonio decide che la femmina deve andare in convento e lo decide da subito e questa povera donna gli regalano le bamboline che sono da sua ora e che gli continuano a parlare del convento e come viene chiamata questa Gertrude come viene chiamata la signora la sposina viene chiamata anche madre ma viene chiamata madre in un passaggio pazzesco fermo e lucia voi sapete voi sapete che manzoni prima di scrivere prese esposi si scrive a ferma e lucia ferma e lucia è esorbitante un caos per fortuna poi si è tranquillizzato manzoni che era un po' e ha ridotto per fortuna è venuto fuori un capolavoro chiaramente ha perso qualcosa cos'è che ha perso in ferma e lucia cosa ha perso gli umori le sensazioni gli odori una ricchezza descrittiva strepitosa e in ferma e lucia sono 110 pagine mi sembra la storia di gertrude un romanzo nel romanzo e c'è un finale che ti stringe il cuore lei sta parlando con lucia nel refettorio vi ricordo un colpo di genio assoluto di manzoni il ricciolo c'è un ricciolo che esce dalla cuffia la verità di gertrude il suo desiderio è il ricciolo e tutta una vita una società un padre ha coperto il ricciolo ma il desiderio lo diremo stasera lo puoi rinviare puoi metterlo a tacere per un po' ma poi riemerge sempre il ricciolo e a un certo momento inferme lucia arriva il padre portinaio e dice reverenda madre la stanno aspettando e gertrude manzoni usa una cosa datelo e legge dice e gertrude si mise a ridere sgangheratamente io sono rimasto colpito da questa cosa da questo avverbio sgangheratamente si mise a ridere sgangheratamente e disse vedete chi mi chiama madre da ben altri avrei voluto esserlo e cosa fa gertrude uccide distrugge se tu non vieni in qualche modo a patti col tuo desiderio se tu in qualche modo non lo riconosci se tu in qualche modo non accetti che qualcosa è finita è passata prima o poi diventi un distruttore cioè e qui arriviamo finito è lo sguardo di traverso non sopporto di vedere biancaneve nel suo splendore nascente lo guardo di traverso ha un nome strepitoso questo sguardo di traverso si chiama malocchio interessante come noi guardiamo il mondo e la realtà possiamo arrivare a fine della vita e guardare il mondo e la realtà con un malocchio io adesso mi permetto tanto poi non mi invitate più a me i vecchi sono antipaticissimi e purtroppo siccome mi sto avvicinando rischio di essermi antipatico perché i vecchi è tutto così ai miei tempi ogni volta vedete quando i vecchi parlano ai giovani vedete cosa fanno gli danno delle grosse mazzate in testa e iniziano a raccontare che loro nella loro vita si alzavano alle 6 di mattina mentre tu dormi no? bella roba io lavoravo io no? sempre io ancora tu arrivi a 70 anni e continui a dire io e continui a parlare di te hai un ragazzo lì di 15 anni 20 anni e tu parli di te dici io io grossi colpi ma l'occhio e quindi una cosa che forse molti sai perché scusate c'è un come posso dire una deviazione un po' volgare posso? bevo però prima così sapete anche come si chiama il malocchio nelle tradizioni viene chiamato lo sguardo secco e cioè cosa facciamo quando uno sente una roba cos'è che facciamo posso vado adesso vado cos'è che facciamo giusto e al sud in molti casi le donne adesso non più ma io l'ho vista fare sono di origine napoletana quindi tradizionale l'ho vista fare le donne si coprono il seno ed è il motivo per cui si fa le corna le corna le corna sono un simbolo fallico lo sguardo secco è lo sguardo che ti vuole rendere sterile qual'è la parola d'ordine dell'invidioso perché a lui e non a me perché lui si o lei si e io no dunque siccome non l'ho avuto io non lo deve avere anche lui ora di tutta sta roba ed è per questo che istintivamente ci si ripara dalla cosa più tremenda che ci sia il malocchio cito sempre adesso Velania l'ha già sentita più volte questa cosa casa mia vicino a una chiesa a Milano e c'era una volta suonavano le campane c'era un matrimonio e c'era quel momento in cui uscivano gli sposi io ero un po' di corsa esco e dietro di me sento uno che dice eh finché dura io mi son toccato perché il malocchio è la patente di Pirandello giusto? la patente di Pirandello è il malocchio ora è chiaro perché quello lì dice finché dura mica perché è cattivo perché magari la moglie è scappata con il suo amico o perché magari lui non è riuscito a sposarsi capite cosa sto dicendo? giudichiamo la vita a partire dal nostro fallimento ma se noi guardiamo il mondo a partire dal nostro fallimento o dal nostro non potere che tutti noi l'esperienza del fallimento è l'esperienza quotidiana ma se tu guardi la realtà con lo sguardo del fallimento la realtà ti diventa insopportabile finisco in bellezza perché leggo aspettate che lo recupero se lo riesco a recuperare ve l'ero segnato sto parlando è il paradiso perduto di Milton sapete che il paradiso perduto di Milton racconta la storia di Satana che vuole distruggere il mondo perché ha perso contro contro Dio i diavoli hanno perso contro Dio fanno una riunione nel pandemonium il parlamento dei diavoli e poi decidono di distruggere l'ultimo pianeta creato da Dio un dispetto la terra allora dicono chi ci va vai Lucifero tu sei il capo e Lucifero va è un poema enorme bellissimo chi non l'ha letto ma più più Lucifero si avvicina al mondo più vede che è bello perché Lucifero non mente mai il diavolo s'appollaiò simile a Cormorano in vetta all'albero della vita ora sotto di sé siamo nell'Eden con nuova meraviglia Satana osserva esposta in breve spazio al godimento dei sensi umani tutta l'abbondanza della natura allora rimasto ad osservare stupefatto recuperò tristemente la parola che aveva perduto è un monologo oh inferno cos'è che con tanto dolore vedono qui i miei occhi creature d'altro stampo innalzate a tal punto sul luogo della nostra felicità probabilità nate dalla terra non spiriti e tuttavia inferiori di ben poco agli splendenti spiriti celesti sentite cosa dice il mio spirito con meraviglia li segue e li potrebbe addirittura amare ma il diavolo invidioso distorse il capo altrove e tuttavia con occhi gelosi lascivi e maligni li guardò di traverso e fra sé e sé qui c'è un colpo di genio di Milton perché inventa un verbo Milton come tutti i grandi poeti perché qui è Adam ed Eva che si sono abbracciati si abbracciano e Satana li vede non ha ancora tentato Eva li vede e fra sé e sé si lamentava odiosa vista vista tormentosa paradisiati questo è il verbo che inventa Milton paradisiati il paradiso come l'inferno non è un luogo è un modo d'essere è una condizione paradisiati l'un l'altro fra le braccia e l'Eden fatto da loro più felice godranno a sazietà gioia su gioia mentre io confitto al fondo dell'inferno non c'è per me né letizia né amore soltanto un desiderio feroce e poi e qui finisco sentite cosa dice questo è pazzesco qui Milton oh miei pensieri a che cosa mi avete condotto con quale impeto da con quale impito dolce mi avete distratto dalle ragioni per cui sono venuto e l'odio non l'amore non la speranza del paradiso al posto dell'inferno non la speranza di poter gustare in questi luoghi il piacere ma piuttosto è il distruggere ogni piacere per me è perduto salvo il piacere stesso di distruggere ti metti a piangere no è chiaro perché Milton satana cosa dice così belli li potrei addirittura amare ma preferisce restare legato all'idea che ha di sé che accettare non so se è chiaro e dice io sono il diavolo non posso amare e se lo invenza lo racconta lui per me ogni piacere è perduto salvo il piacere di distruggere formidabile questione grazie